Chiara ed io, Paola, siamo docenti del corso di matematica da alcuni anni e nel tempo abbiamo notato alcune inesattezze ricorrenti negli elaborati scritti dei nostri studenti. È come se ci fossero alcuni ostacoli sui quali inciampiamo un po' tutti, o quasi. Lo scopo di questo video e soffermarci su di essi per meglio capire dove e perché si sbaglia. Prendiamo, per esempio, questo sistema lineare in due equazioni e tre incognite che contiene un parametro. Scriviamo la matrice dei coefficienti associata e osserviamo che è rettangolare. Il fatto che la matrice sia rettangolare bassa fa sì che spesso si consideri solo una sottomatrice quadrata e si traggano conclusioni solo sulla base di informazioni parziali. La presenza del parametro complica ulteriormente le cose. Se uno studente si sofferma sulla matrice quadrata che corrisponde alla prima e alla seconda colonna e ne calcola il determinante, trova che esso si annulla per k uguale a 2. Quindi conclude che la caratteristica della matrice è uguale a 2 per k diverso da 2 e che la caratteristica della matrice è 1 per k uguale a 2. Questo ragionamento, però, contiene un'insidia. Vediamo quale e perché. Proviamo a ricavare tutte le matrici quadrate di ordine massimo, che in questo caso sono matrici 2x2. Identifichiamole tutte. Consideriamo le prime due colonne. La seconda e la terza e la prima è la terza. E guardiamo quest'ultima matrice. Il suo determinante è uguale a 6, che è diverso da zero e non dipende da k. Nelle altre due matrici il determinante si annulla per k uguale a 2, ma in questa matrice non si annulla mai. Questo significa che esiste una sottomatrice quadrata con determinante diverso da zero per ogni valore di k. Sarebbe sbagliato concludere che per k uguale a 2 la caratteristica della matrice dei coefficienti è uguale a 1. Perché la sua caratteristica è uguale a 2 per ogni valore di k. Ecco l'insidia. Inoltre, anche nella matrice completa, esiste una matrice quadrata che ha determinante non nullo per ogni valore di k. Quindi la sua caratteristica è uguale a 2. Concludiamo che il sistema ammette infinito alla 1 soluzioni per ogni valore reale di k. Adesso facciamo un piccolissimo cambiamento al sistema di prima, per comprendere ancora meglio dove sta l'insidia di cui abbiamo parlato. Al posto del coefficiente 3 della z nella seconda equazione scriviamo 1. Immaginiamo che uno studente scriva la matrice associata al sistema e consideri solo la prima matrice quadrata. Concluderà, come nel caso precedente, che la caratteristica della matrice è uguale a 1 per k uguale a 2 ed è uguale a 2 per k diverso da 2. Attenzione però! La matrice formata dalla prima e terza colonna ha determinante uguale a 0. Quindi per k uguale a 2 la caratteristica della matrice è uguale a 1, perché tutte le sottomatrici quadrate hanno determinante nullo. In questo caso, e solo in questo caso molto particolare, il risultato trovato con la prima sottomatrice è quello corretto e completo. Solo in questo caso per k uguale a 2 il sistema non ammette soluzioni, perché la caratteristica della matrice dei coefficienti è uguale a 1 e la caratteristica della matrice completa è uguale a 2. Abbiamo visto un'insidia che si nasconde dietro i sistemi con matrici rettangolari basse. Ora affrontiamo il caso delle matrici rettangolari alte. Poiché qui il numero di incognite è inferiore al numero di equazioni, potremmo pensare che questo tipo di sistemi non ammetta soluzioni. Attenzione però, perché non sempre è così. Consideriamo sistemi con due incognite e tre equazioni, come questi. Chiediamoci quale situazione nel piano possono rappresentare. Le tre equazioni di ciascun sistema rappresentano le seguenti situazioni. Tre rette parallele, due rette parallele e un incidente, tre rette incidenti a 2 a 2 ma senza un punto in comune, tre rette che si incontrano in un unico punto comune, due rette coincidenti e una retta incidente, tre rette coincidenti. Se abbiamo un sistema non sempre riusciamo a individuare ad occhio in quali di questi sei casi ci troviamo e allora andiamo a considerare le matrici associate ad ognuno di questi sistema. Chiara, vuoi spiegarlo tu? Certamente. Se guardiamo le sei situazioni che appaiono qui, vediamo subito che. Nel primo, nel secondo e nel terzo esempio il sistema non ammette soluzione, perché non esiste alcun punto del piano che soddisfi contemporaneamente tutte e tre le condizioni espresse dalle equazioni delle rette. Come sono le matrici associate a questi tre sistemi? Nel primo caso, la matrice dei coefficienti, m, ha le righe tutte proporzionali e quindi la sua caratteristica è uguale a 1, ma la matrice completa a determinante è diverso da zero, quindi la sua caratteristica è uguale a 3. Le caratteristiche sono diverse. La matrice associata al secondo sistema ha caratteristica uguale a 2, ma la matrice completa ha caratteristica uguale a 3, anche in questo caso sono diverse. Nel terzo sistema, la matrice associata ha caratteristica massima, che è 2, ma la matrice completa ha caratteristica uguale a 3 e anche in questo caso sono diverse. In ciascuno di questi tre casi le due caratteristiche sono diverse e il sistema non ammette soluzione. Il quarto e il quinto sistema ammessono un'unica soluzione. Perché? Inizierei dal quinto sistema, perché mi sembra più immediato. Infatti i coefficienti della seconda equazione si ottengono dalla prima moltiplicandoli per 2. Ciò significa che due rette coincidono, quindi è come un sistema di due equazioni in due incognite, la cui matrice associata ha determinante diverso da 0. Quindi è riconducibile a un sistema cameriano. In altre parole, la caratteristica di m è uguale a 2, il massimo possibile, e il determinante della matrice completa è uguale a 0, perché la seconda riga è proporzionale alla prima, quindi anche la sua caratteristica è 2. Se il numero di incognite coincide con la caratteristica comune alle due matrici, il sistema ammette unica soluzione. Questo succede anche per il quarto sistema. La caratteristica di m è massima, ossia 2. La matrice completa determinante è uguale a 0, perché la terza riga è somma delle prime due, quindi anche la sua caratteristica è uguale a 2. Rimane da analizzare l'ultimo caso, ossia quello delle tre rette coincidenti. Siccome i coefficienti delle tre rette sono tutte proporzionali, questo significa che le righe della matrice m e le righe della matrice completa sono tutte fra loro proporzionali e quindi entrambe hanno caratteristica uguale a 1. E il sistema ammette infinito alla 1 soluzioni, che sono gli infiniti punti della retta.